Sono Serena e sono responsabile tecnico, quindi mi dedico della cura dei vigneti della cantina di Montefili. Dal 2018 Montefili si è dedicata proprio a conoscere quelli che sono i suoli, partendo da una zonazione, quindi raccogliendo i terreni di ogni singola vigna e dopodiché anno per anno abbiamo cominciato a collezionare i fiori spontanei e gli insetti che vivono nel nostro vigneto per poter ottimizzare e salvaguardare la vita delle viti partendo dal terreno. Mi reputo molto fortunata perché ho studiato per poter far questo e oggi mi ritrovo. Comunque non considero di essere vecchia, perciò una donna che può fare questo lavoro dedicandosi dal vigneto fino alla bottiglia finale è una grande soddisfazione. L'obiettivo è di far stare bene le mie viti, quindi che le mie vigne stiano bene per il più tempo possibile. Sembra una cosa un po' magari sciocca, banale, ma oggettivamente in tempi come questi così sfidanti riuscire a trovare, a mantenere le piante in equilibrio in grado di sopportare anche condizioni climatiche stressanti è prima di tutto l'obiettivo per me per una produzione poi equilibrata e continuativa, però la prima attenzione davvero è quella nel vigneto.